Ehi, vi voglio ricordare che stasera dalle 9, quindi tra 10 minuti alle 23.30 c'è il Glitcherwood Super Show che potete seguire in diretta su twitch.tv slash glitcherwood oppure meglio su twitch.tv slash un altro scherzi in ogni caso in descrizione troverete il link per vedere le prospettive di Twitch in contemporanea e di leggere anche le chat in contemporanea, stasera non riesco a parlare più o meno come ogni altro giorno della mia vita quindi, al di là di svarionare male in questi 10 secondi di annuncio, vi ricordo che tra 10 minuti c'è il Glitcherwood Super Show vi aspettiamo numerosi, faremo dei giochi molto belli, dei giochi che abbiamo fatto anche molto tempo fa tipo Ultimate Chicken Horse, se il piano non è cambiato negli ultimi 10 minuti e non me ne sono accorto senza dubbio di Minecraft Craftable e il terzo segmento è una sorpresa per tutti che è un modo molto simpatico di dire, non so cosa abbiamo deciso di fare ci vediamo tra 10 minuti, ciao belli!